A mezzanotte, non lo farò mai a mezzanotte, lo farò domani mattina all'alba, uscendo i dischi, io devo ascoltarmi e scrivarmi 200-250 canzoni per poter proporre un programma con 20 novità musicali. Cioè devo ridurre 250 canzoni oltre a tutte quelle che ho ascoltato in settimana per farne 20 da offrire al mio pubblico. Se non avessi un pubblico lo farei ugualmente. Sono un appassionato che capisce che deve fare ricerche, e si deve fare un culo così, perché non c'è nessuno che mi raccomanda, mi consiglia, mi dice guarda che questa cosa devi andare a farla, eccetera. E non siamo tutti tagliati per fare questo. Il musicista che avanza presenta Live Therapy, il primo podcast dal vivo che indaga sulla vita dei musicisti nell'era dell'internet. Ideato e condotto da Frank Martino. Salve, io sono Frank Martino, sono un musicista. Un musicista. Il musicista. Il musicista. Ma nei tempi, nei momenti più bui, è anche amministratore di una pagina ironica che si chiama Il musicista che avanza, che è una pagina che fa ridere, però ultimamente c'è poco da ridere. Fa riflettere. Fa riflettere. E quindi abbiamo bisogno di fare anche altro. e quindi abbiamo, parlo al plurale, ma in realtà ho pensato mesi fa di fare questo podcast dal vivo che si chiama Live Therapy, dal vivo proprio perché dopo anni di streaming, di chiusura, di streaming, di chiusura, era bello poterci riabbracciare, come dico questa cosa un po' abbonista. Una cosa che si diceva durante il lockdown. Riabbracciandoci tutti. Stiamo separati oggi per riabbracciarci. Sì, infatti poi è andata come è andata. Vabbè. Accanto a me, no vabbè, spiego dopo. Accanto a me abbiamo oggi alla co-conduzione Paolo Grillo, che è amministratore della pagina Giovanni Al Heavy, con l'H, una pagina che non fa riflettere tanto, cioè fa incazzare. Fa incazzare e basta, non fa neanche più riflettere. Sì. Ormai, come stai Paolo? Tutto a posto? Sì, sto bene. Direttamente da Roma, quindi come vedete, stai bene? Sto bene, sì. Oggi con l'acqua. Oggi non bevi più. Non bevo più, basta. Hai smesso. Devo guidare. Non devi guidare, devo guidare io. Infatti, per favore Alberto, se ti chiedo altre birre... No, io devo guidare perché tu stai chiedendo. Potrebbe essere un ottimo... Cazzo. Va bene, perfetto. Questo rimane così tra noi. Lo tagliamo dopo. Ecco, allora, questo podcast lo spiego anche al nostro ospite di oggi, che non lo sa, perché noi abbiamo ancora parlato. Questo ospite, sì, vabbè, questo podcast è partito come un cazzeggio totale, ma adesso si sta un pochino allargando e quindi devo anche assumere un tono un pochino più serio. Ma in realtà si chiama Live Therapy perché non è un'intervista. non so se forse è una conversazione, ma fondamentalmente è nata come terapia di gruppo per musicisti. Diciamo per musicisti, ma in realtà non solo. La definizione migliore l'ha trovata Paolo l'altro giorno perché mi ha detto cerchiamo l'anello mancante tra l'essere umano e il musicista. Me l'ero scordata. E questa è una cosa bellissima che gli rubo, ma assolutamente la utilizzeremo sempre perché in realtà è quello che vorremmo fare noi nella nostra follia, perché il problema dei musicisti, come probabilmente tutte le nicchie, è che siamo estremamente chiusi nei nostri problemi, nelle nostre cose e raramente riusciamo a parlare di altro che non sia chitarre, effetti. Avevi fatto il meme di quello che sta alla festa. Esatto, la festa c'è Homer da solo, che è un chitarrista che sta a parlare solo di pedalini e tutti gli altri si divertono, ma lui poverino è da solo perché appunto... Non c'è nessuno con cui possa parlare. A noi invece noi vorremmo fare in modo che la comunità dei musicisti si apra a questa cosa e si renda conto che c'è molto altro. Ci sono anche le persone normali. Insomma, ecco, è che noi possiamo anche essere persone normali nella nostra follia ed è per questo che nel podcast ultimamente non si parla quasi mai di musica, cioè alla fine ormai stiamo parlando veramente di tutto e infatti non so stasera in realtà di cosa parleremo. Volevo dire un'altra cosa importante, visto che devo dirla, perché questa è la puntata numero 11 e inizia, nonostante siamo all'inizio, inizia a farsi sentire la stanchezza, la pesantezza e quindi devo dire a tutti quelli, soprattutto, vabbè lo dico anche a voi, però lo dico a quelli da vero youtuber o da streamer, che è molto importante l'idea che se vi piace questa cosa dovete mettere il like e il follow alla pagina, perché è l'unico modo che avremo più avanti, che avremo per portarla avanti, perché chiaramente al momento è totalmente autosostenuta ed è anche, soprattutto grazie all'Alberto della Bottega Faustino che ci ha tutti gli ospiti, a tutti noi che ovviamente non guadagniamo niente, però dico se vi piace mettete un cavolo di follow così è gratis e alla fine ci fa… Quasi quasi lo metto anch'io, iscriviti, perché qua ragazzi si tratta di sopravvivenza, però al netto di questo e poi anche appunto per chi ci sta seguendo dal vivo sappiate che facciamo questa cosa ogni due settimane, abbiamo sempre ospiti interessanti, a prescindere dal fatto che l'ospite lo conosciate o meno, fidatevi perché se viene qua è gente che solitamente ha qualcosa da dire, difficilmente facciamo scena muta o parliamo di cose a cui non interessa nessuno e se viene fuori qualche argomento eccessivamente nerd lo blocchiamo, sì, nel senso viene escluso automaticamente. Per cui passiamo all'ospite di oggi, mi sembra di aver già parlato un'ora. L'ospite di oggi è un personaggio molto interessante, già non mi guarda perché ha paura di quello che io possa dire, però devo dire chi sei, sei un personaggio storico degli anni 90, ci sta, ci sta, che è un musicista, un po' l'istrumentista, cantante anche, giusto? Principalmente cantante, però ha fatto tantissime altre robe di cui più o meno forse parleremo, attore, conduttore televisivo eccetera e quindi secondo me è molto interessante e ultimamente sta facendo anche molto parlare di sé per il suo canale insomma che ha in cui possiamo dire che sei anche un divulgatore musicale, si dice così oggi, divulgatore musicale, quello che fa principalmente oggi, però adesso lo faccio entrare e poi parliamo. Enrico Silvestrin, fate un bel applauso ragazzi, sai che facciamo... Enrico devi accendere il microfono, so che sei un professionista... Qua sta registrando, sì, c'ho sempre la pipa... Buonasera, buonasera, buonasera. Enrico, come stai? Hai fatto solo otto minuti di introdusione. Ah, però non è male. No, ho visto fare di peggio, ma anche da me stesso. Però la cosa dello youtuber la dovevo dire. Sì, sì, no, streamer, streamer, sì. No, 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 non di te, scusami. Dello youtuber hai fatto... No, no, del fatto di dire di mettere i like, eccetera, perché mi sono... Certo. Io sono sempre molto timido su sta roba, nel senso che mi dà fastidio quando gli altri mi dicono quello che devo fare. No, no, devi farli sentire in colpa. Però, cioè... È giusto. Io, sai anche cosa ci ho pensato, perché l'altra volta ho visto uno dei tuoi video, perché ultimamente mi sono... Dove li facevo sentire in colpa? Sì, c'è stato un momento, anche abbastanza lungo, per questo il mio è stato abbastanza lungo. Più di otto minuti. No, non so, non so, però è stato lungo. Percepito era tipo due ore. In cui lui giustamente... Tipo hai messo, vabbè, lui è super professionista, cioè nel senso che in tempo reale ti mette i filtri, eccetera. Cioè hai fatto tipo una scena cupa? Cupa, sì. In cui... Può essere. ...e l'emosinavo in modo molto divertente. Certo. Perché questa roba qua, io ultimamente, che poi siamo ancora all'inizio di questo format, quindi è niente in confronto a quello che si può fare, però si inizia a sentire, soprattutto facendolo dal vivo, si inizia a sentire, come dire, anche la stanchezza tra virgolette. Cioè è sempre un piacere, non è per dire assolutamente un piacere fare questa cosa, però c'è un'organizzazione dietro, eccetera, per cui è chiaro che... È importante perché, essendo un mondo comunque meno conosciuto della TV tradizionale, dei canali tradizionali, dove tu sai che qualcuno ha pagato per quella cosa lì, ok? Qui è un po' diverso perché comunque questo è un mestiere che viene sostenuto dal contributo delle persone. In questo caso non c'è neanche sostegno, in realtà è proprio una cosa gratuita che vuol dire... Io normalmente dico questo, se un video te lo sei visto per più di due minuti, vuol dire comunque ti ha intrattenuto in qualche maniera, metti il like a priori, ricordati di farlo, cioè nel senso deve essere proprio un'abitudine, perché a quel punto tu stai dicendo non tanto mi piace, non mi piace, ma ti ho guardato, lascio un segno della mia presenza e quindi ti ho visto, mi hai intrattenuto anche se per due minuti e ti metto un like, deve essere automatico, invece chiaramente devi formare delle abitudini che magari tra i ragazzini sono più facili, tra pubblici più adulti è più complicato perché pensi sempre che quello che succede qualcuno avrà pagato. No, no, certo, ma sembra appunto, ora non voglio stare due ore a fare sta pippa, però in realtà... Mettete sto cazzo di ragazzi! No, però sembra una cazzata, ma io ora che inizio diciamo a fare questa cosa, perché appunto, ripeto sempre, non è la mia occupazione questa, ne faccio una molto peggiore che il musicista, quindi cioè non è che navighiamo in acqua... Dove devi supplicare per avere i soldi, ovviamente, hai semplicemente traslato altrove quello che già facevi, quindi è più o meno, e pensa che non gli stai ancora chiedendo i soldi, gli stai chiedendo il like e l'iscrizione, nulla! E quanto in realtà è importante sta cosa! La vedrai al prossimo step! No, no, ma i soldi guarda... Inizierai con le scene cupe! Esatto, ma perché, vabbè, allora, volevo intanto dirti una cosa, perché... Chiedere stelle! Esatto, tu... No, no, non parliamo subito di... No, maestro Bini, perché... No, volevo dirgli una cosa, perché noi ci siamo conosciuti ora, e a cena abbiamo parlato di tutt'altro, per cui volevo dire pubblicamente una cosa, ma mi piaceva, cioè, perché abbiamo invitato Enrico Silvestrini? Io devo dire che, a parte da MTV, insomma, tu sei stato un volto che per la nostra generazione comunque è riconoscibile, come Maccarini o eccetera, eccetera, io poi da lì non non sapevo più cosa faccio, cioè, nel senso, non ci siamo più sentiti, vabbè, c'è niente di male, anche perché io, tu adesso appunto sei molto nella divulgazione musicale, io non seguo la divulgazione, cioè, da musicista, guardo, cioè... Stai sul pezzo! Sto sul pezzo, no, nel senso, chiaramente mi faccio, ascolto molta musica, ma non segui solitamente i divulgatori. Vecchia, vecchia. Vecchia musica. Musica. Musica vecchissima. Ebbè, nel senso, se non ricevi quella della divulgazione che è nuova, è chiaro che magari stai su cose più del passato. Partiamo, ma... No, no, aspetta, finisco il discorso che volevo dire. Come sono arrivato a pensare di invitare lui? Perché sulla mia pagina spesso scherzo sui maneskin e sul fenomeno maneskin, che poi alla fine a noi non ce ne frega niente dei maneskin, nel senso si ride... A te! Aspetta, e poi non ne voglio neanche parlare stasera, perché so che la pensiamo uguale, e quindi non me ne frega neanche più di tanto, però un mio amico un giorno, cioè mi lamentavo del fatto, perché mi sento spesso dire dai commenti, dai messaggi privati, ma tu sei solo invidioso, io poi scherzo, cioè non è la mia pagina veramente surreale, per cui non c'è niente di cattivo, però faccio delle cose, diciamo che chi vuole capire, gli analfabeti funzionali, insomma, si incazzano, scusami, non sto guardando la videocamera, scusa, non sto guardando te, sto guardando la videocamera e sto parlando a chi mi iscrive... Comunque non è che c'è... No, allora, un giorno... Sì, no, nel senso, volontariamente... Non è che non ci conosciamo, quindi non volevo partire così proprio... Allora, io, sfocandomi con un mio amico, mi sono detto, ma è possibile che tutti i youtuber, tutta questa gente, continuano a difenderli, a dire cose senza senso, quando la situazione è molto semplice, c'è un prodotto commerciale, fine... Allora, un giorno questo amico mi fa, guarda questo, e mi ha mandato la recensione di Enrico Silvestrin, dei mani, io Enrico Silvestrin me l'ero perso in tutti questi anni, cioè... Non ce l'avamo più sentiti, non ce l'avamo sentiti, per cui io dico, aspetta, ma Enrico Silvestrin è Enrico Silvestrin? Sì, e guardo sto video, tipo, di dieci minuti di recensione, che mi ha fatto morire da ridere, cioè, mi è piaciuto un casino, cioè, ora non sto a citare a memoria, però mi è fatto veramente... Cioè, io ho detto, dai, che figato, cioè, me lo sono guardato come fosse un video di stand-up, cioè, sì, cioè, ma non è così, ma figato, c'è qualcuno che dice queste cose, ho detto, porca miseria, è uno di noi questo qua, cioè, nel senso, non è soltanto l'Enrico Silvestrin che mi ricorda voi, ma è uno che ci capisce, scusami la citazione. Fatto sta che in quei giorni lui gli ha fatto un meme dedicato, per cui loro due sono entrati in contatto... Anzi, che non ci siamo menati, normalmente quando lui fa il meme si menano, quindi... Pino Scotto ha reagito in maniera un po' diversa, perché Pino Scotto con la Michelin, per dire... Con la Michelin, sì. Abbiamo già fatto un podcast sulla Michelin, quindi entriamo nell'argomento di cosa è successo, però... E lui mi fa... No, Enrico mi ha risposto, è uno di noi. Ho detto, no, è uno di noi, è uno di noi. Vabbè, insomma, alla fine siamo... L'ha ben invitato e lui ha, non so, secondo quale logica, ha accettato. Così, però sì, sì, va bene. Sembrava una cosa carina. Sì, sì, sì. Sembrava. Ma senza sapere... Te lo dico tra un'ora. Sembrava una cosa... Aspetta, riaggiorniamoci troppo. Siamo stasera dopo la fine. Però, detto così, ho detto, dai, che figata fatta. E quindi, niente, volevo dirti questa cosa. E poi mi ha fatto tantissimo ridere. Sempre questo mio amico mi ha mandato uno screenshot di un tuo post Facebook, in cui te scrivevi l'ultimo pezzo dei Maneskin, che era Marcetta. Ah, la Marcetta. Insomma, ha descritto cosa fosse una Marcetta, avevi dato una definizione tradizionale, senza citare i Maneskin. No, 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 è proprio la definizione della Marcetta. E in foto c'è scritto featuring Tom Morello. Io, siccome faccio anche molte cose su questo, ironia su questa cosa, ho detto, vabbè, è uno di noi, basta. Ora non voglio parlare di questa cosa, perché tanto... L'hai fatto. L'abbiamo fatto, poi noi stiamo a parlare dei Maneskin, nel senso non... A meno che, ecco, la cosa importante che dico a voi dal vivo è che se volete intervenire moderatamente potete farlo. Quindi se a qualcuno di voi interessa parlare dei Maneskin, io penso che lui abbia un punto di vista che può essere almeno... Cioè, se ve lo diciamo noi musicisti siamo invidiosi, lui è un divulgatore, magari... Ma guarda che lo dicono pure a me, Rosicone, invidioso. Ma poi invidioso di che? Cioè, io posso capire che lo dicono a me... Io una volta gliel'ho chiesto. Ma di scrivere canzoni di merda? Cioè, sono invidioso di quello? Ho detto onestamente no. Ci ho pensato però, ho detto no, evidentemente no. No, non credo che sia per quello. Poi è un discorso troppo... Anche le reazioni del pubblico sono parte di un ecosistema, quindi... Poi tu usi la tecnica del ban, di solito. No, dipende. Se mi chiedi semplicemente... Se mi dici Rosicone, non ti banno perché ti sei già autobannato nella vita. Cioè, c'è poco da stare a discutere. Non ho argomenti, non ho appunti anche di dialogo. Ti banno se sei maleducato, se mi offendi. Cioè, Rosicone non mi offende. Cioè, è semplicemente... Giusto per dare... Io sono più forte di voi. O forse parlo più vicino? Non lo so. Può essere che... Se vi dà fastidio, dite. Giusto per dare un contesto a quello che stiamo dicendo, perché magari è una cosa che conosciamo noi. Tu ultimamente... Allora... No, no, ma era voluta. Perché magari non sanno di cosa ti occupi adesso. No, magari... Esatto. Nel senso che... Avranno intuito che lavoro evidentemente nel mondo dell'intrattenimento sul web, dove appunto ci sono i commenti, dove appunto l'interazione rispetto all'era televisiva, in cui non avevi nessun contatto con il pubblico. Cioè, l'avevi se andavi al supermercato, ti fermava una persona e ti chiedeva di farti la foto o l'autografo, però ti diceva qualcosa. Però normalmente era un mondo anche piuttosto carino, nel senso che è difficile... Nel rapporto frontale è molto difficile che qualcuno ti antagonizzi. Cioè, arrivi e ti dica... Fai schifo, hai detto questo. A meno che tu non sia un personaggio. John Lennon. Beh, oggi per dirti succede, ma succede su personaggi di altro livello, cioè di altra categoria, che magari fanno parte di un mondo molto più trash, dove il rapporto diventa più viscerale, cioè c'è un punto di contatto molto più forte. Per quanto riguarda il mio lavoro, chiaramente nel momento in cui, nel luogo dove non ci sono distanze, è l'interazione diretta. Ed è soprattutto un mondo di... c'è capiscer, cioè un mondo di persone che sono convinte di... saperne quanto ne sei tu, no? Quindi, ovviamente non sto a spiegarti l'evidente problema che abbiamo sul discorso delle competenze e di come possono essere riconosciute o anche loro direbbero come viene stabilita la competenza di una persona, cioè... E io credo che le competenze nel mestiere che faccio io siano le competenze della... l'unica competenza reale sia la credibilità che tu hai, cioè... Se tu sei credibile, avrai persone che credono in quello che tu dici. Se non sei credibile, può essere quello che ha studiato di più, si è preparato di più, ma risulterai non credibile. E allo stesso tempo, se non hai preparazione, probabilmente risulterai non credibile, no? E anche poi tra questo, chiaramente, ci sono tanti che, pur non avendo nessun tipo di competenza, risultano ugualmente credibili. E tu ne devi prendere atto e devi anche rispettare questo fenomeno. Quindi è un mondo molto più variegato, dove sicuramente uno non vale uno, però è molto più variegato come mondo. E le distanze si sono accorciate, quindi oggi uno ti dice qualcosa direttamente lì e in questo c'è una voglia di emergere, di farsi notare, insomma. Al di là del discorso dei leoni da tastiera, c'è un diffuso senso di necessità di protagonista, smania di protagonismo. Cioè quella distanza che oggi è azzerata è utile per tutti quelli che sognavano che venisse azzerata quella distanza, perché li porta, senza alcuna competenza o alcuna gavetta, a interfacciarsi allo stesso livello tuo. Utile per i mediocri, ovviamente, no? Perché chiaramente ti fa dialogare con chiunque, sullo stesso livello, se ti dà retta, se non ti dà retta, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che in questi casi, dove c'è meno competenza, il termine provocatorio è più utile, perché se ti provoco ti innesco. E quindi riesco a dialogare con te, non su un qualcosa che è competenza, ma riesco a dialogare su qualcosa che è uno stimolo, un trigger. Quindi è un mondo complicato, che a livelli suoi, a livelli miei, a livelli tuoi, tu vedi essere piuttosto difficile, nel senso che poi schiumi, c'è chi dice sono zen, non guardo nulla, non voglio rispondere, e c'è chi ci riesce a non rispondere, e chi invece alla fine c'è. Vai a periodi, vai a fasi, però chiaramente è difficile, perché la provocazione, l'insulto, la frase detta, è sempre un qualcosa a cui nel tuo vissuto, che è questo, non si è abituato. Proprio perché dal vivo non trovi l'antagonista che ti viene a rompere i coglioni, perché non avrebbe il coraggio. E invece chiaramente lì, essendoci distanza, è come se non ci fosse spazio-tempo, ci sono non luoghi, e allora chiaramente lì si prendono confidenza, poi tu magari sei lì nome e cognome e stai parlando con Farfallina 39. Ma scusami una domanda, perché questo è interessante. Visto che siamo in questo mondo in cui tu hai detto non è proprio uno vale uno, perché non è così, e questo lo sappiamo, però visto che ormai non è così, però di fatto chiunque può fare delle cose. Ma tu non segui chiunque? No, aspetta. Però, teoricamente, l'hai detto anche tu prima, anche gente totalmente incompetente può fare grandi numeri, li fa? Dipende, hanno una chiave, nel senso che tante persone... Su che base definiamo il fatto che... Allora, io questo esempio, per esempio, lo faccio con i musicisti, con il discorso della musica, poi questo risponde parzialmente, era per dirvi, lavoro nel web, faccio la divulgazione, e oggi la faccio in una maniera completamente libera, perché non ho un editore che chiaramente lavorando, avendo lavorato per tanti anni sotto editori, non è che poteva arrivare Zucchero e gli dicevi ah, aladro, rubi le canzoni. Adesso puoi dirlo. Adesso non te ne frega niente perché ne sei responsabile tu, in più del tuo pensiero, quindi c'è anche un discorso di onestà intellettuale, puoi esercitarla, non esercitarla, puoi scegliere di essere moderato come puoi scegliere di non esserlo, quello dipende da te, e da quello che vuoi comunicare, perché comunque ci sono persone che fanno questo mestiere e che comunque vogliono avere buoni rapporti di vicinato con tutti, quindi è una prerogativa o meno delle persone. Però se tu eri lo stesso che magari prima voleva urlargli rabbiosamente a ladro, oggi puoi farlo perché sei da solo e quindi io oggi posso dirgli e anche elencargli i motivi per cui evidentemente ha rubato o meno. Non è detto che questo sia l'intrattenimento che voglio fare, però mi è capitato spesso di farlo perché comunque lo trovo abbastanza divertente. Ma indipendentemente da questo, che è lo sfogo che puoi avere te o puoi avere tu, capito, di targettizzare qualcuno e quindi andare... Stasera possiamo dire quello che vogliamo tanto che non da sul canale suo, Esatto, siamo liberi. Ma soprattutto... Siamo liberi. Quindi, il discorso delle competenze che tu hai tirato fuori, il discorso particolare, è il... oggi tutti hanno la possibilità di parlare e avere un pubblico. Questo non vuol dire che tutti avranno un pubblico, tutti... non è detto che tutti quanti parlando potranno essere appunto interessanti o spiccare. Perché c'è una cosa che conterà sempre, che è quella che io definisco credibilità che si chiama anche il manico. alla fine a spiccare sono quelli che hanno qualcosa di diverso rispetto agli altri. Non è il primo che arriva ma è quello che quella cosa lì riesce a comunicare in una maniera migliore. E per te può essere anche il messaggio più trash e demenziale del mondo ma evidentemente soddisfa un certo tipo di pubblico che ha bisogno di quella roba lì e su cento persone che gliela dicono scelgono uno. È come raccontare le barzellette. La barzelletta è un qualcosa che potenzialmente fa ridere. Se la racconti bene e sei bravo fa riderissimo anche se è una cagata perché è un potenziale la barzelletta. Se la racconti male la stessa cosa che fa ammazzata le risate non fa ride nessuno anzi la trovi tragica e ti mette tristezza. Quindi tu comunque vedi una sorta di meritocrazia. C'è sempre questa. Questa c'è sempre. Motivo per cui no no motivo per cui fa ridere motivo per cui quando tu prendi nell'esempio dei musicisti quella frase secondo me idiota no? Oggi col computer fanno tutti musica chiunque può fare musica. Certo oggi chiunque può fare musica ed è quello che per me è un bene perché rispetto a cento persone che fanno musica averne centomila aumenta le possibilità di avere talenti perché hai avvicinato centomila persone invece che cento invece che essere una cosa esclusiva diventata una cosa larga dove comunque vince chi scrive le canzoni migliori se non fosse così chiunque uscisse da un conservatorio sarebbe un talento chiunque uscisse da una scuola di calcio sarebbe un fenomeno del pallone e grazie a Dio non è così chiunque andasse a una scuola di cinema vincerebbe un Oscar non è così chiunque va a scuola può uscire come fenomeno la scuola ovviamente è fondamentale per la cultura ma poi tu sai che in una classe quelli che realmente si formano una cultura sono pochi perché altri studiano contro voglia perché altri non gliene frega niente altri non hanno i mezzi e spiccheranno poi ovviamente e andranno avanti anche a livello universitario soltanto una porzione di quelle persone è uguale è il mondo delle arti è chiaro che studiare è utile cioè un musicista se studia anche va bene va benissimo vuol dire che ha una sua curiosità ma non è un obbligo non deve essere la quota di ingresso che per molti invece è così soprattutto per i musicisti viene vista come un sopruso ma come io ho studiato e tu arrivi con 4 bit fatti col computer ed è il motivo per cui l'Italia che è un paese estremamente riccardone nel senso basato molto sulla tecnica poco sulla sostanza poco sulla sullo spirito punk io lo definisco il DIY cioè il do it yourself che sarebbe fondamentale cioè se noi motivo per cui in Italia non si è mai diffuso il punk è sempre rimasto un piccolo movimento da noi sono sempre andati i gruppi dove suonano bene i grandi solisti Mark Knopfler e David Gilmour i Toto perché chiaramente l'approccio è un approccio tecnico i grandi cantanti e ci siamo sorbiti di un sacco di monnezza fondamentalmente perché cantano bene suonano bene e oggi lo senti ancora appunto quando parli per esempio di Vanes che non altre band cioè non si va a vedere che cosa suonano bene l'importante è che suonino bene lo spirito punk invece ti abitua che la musica non è un qualcosa che tu devi pensare ma qualcosa che devi sentire quindi tu puoi fare tre accordi e tre accordi anche suonati male hanno uno spirito nel suonare male qualcosa c'è un'intenzione nel suonare bene qualcosa c'è un'intenzione ed è calore o freddezza testa e cuore né più né meno per me conta la musica del cuore quindi tutto quello che esce fuori da quel tipo di roba giustifica la eventuale carenza tecnica perché non ce ne frega niente della tecnica cioè ai fini di una bella canzone non ce ne frega niente non ce ne frega niente delle Morgan l'altro giorno criticava le canzoni di Sanremo diceva mancano le modulazioni Rick Biato Rick Biato fosse quello il problema fosse quello il problema Rick Biato che è uno dei più famosi non è un divulgatore musicale lui non divulga niente lui fondamentalmente è un analista tecnico della musica e parla di tecnica musicale a grandi livelli in America col suo canale YouTube molto carino molto interessante ma è uno che fa appunto il suo video su dove sono finite le modulazioni nella musica ma sti cazzi ma dove sono finite le canzoni cioè nel senso chiediti dove stanno le canzoni le intenzioni nella musica perché le modulazioni io ne posso mettere 15 ma è una canzone del tutto inutile perché è un esercizio di stile perché non serve a nessuno i fini pratici capito è il modo per crescere quando non sai che fa come facevano negli anni gli anni 80 tutte le canzoni è l'ultimo ritornello c'è la salita di semidono poi la pausini l'ha portata quindi per me questo già è un approccio posso dire una cosa a proposito cioè è quelli che invece dici no ma io magari ti è capitato qualcuno che dice no però io mi emoziono sentendo i toto mi emoziono cioè quindi è soggettiva questa cosa cioè nel senso io concordo sul fatto che quelli siano esercizi di stile per quanto mi riguarda però c'è gente che invece sostiene sente lo special di Africa fatto con gli ottavini e si emoziona non so secondo quale logico però magari succede ma non fanno niente di speciale se tutti emozioni con la musica non fai niente di speciale no no e quindi dicono musica tutti emozioni con i toto ok tanto quanto un altro nello stesso tempo si emoziona ascoltando ultimo ok questo non ti rende né più competente perché stai ascoltando i toto né quello più incompetente perché stai ascoltando ultimo l'emozione è quello che ha la base della musica perché io posso emozionarmi e ridere tantissimo guardando un film un cinepanettone e non emozionarmi affatto vedendo Nolan e o viceversa ora il fruitore è una cosa il divulgatore e barra il critico l'esperto musicale fa un altro mestiere sì perché mette in relazione un qualcosa rispetto alla storia della musica rispetto alle altre cose tant'è che io ho sempre detto quando fai le recensioni di un disco tu fai una recensione appena esce io oggi domani a mezzanotte escono i dischi ok da giovedì e venerdì mezzanotte appena scatta escono tutti i nuovi dischi io domani sento un disco io posso pensare che questo disco sia un disco da nove io ho smesso anche di dare i voti ho smesso perché questa cosa del voto è una semplificazione non serve eppure tutti cercano sì ma il voto che soffre che il voto ti piace o non ti piace cioè quando tu ami qualcosa gli dai il voto no dici mi piace quando tu andavi a casa del tuo amico con la pila di dischi e gli dicevi ascolta questo disco com'è otto no e tu non gli dicevi senti questo disco che è un nove gli dicevi senti questo disco è bello gli spiegavi perché ci siamo disabituati a spiegare anche perché qualcosa ci piace siamo abituati a dargli un voto siamo abituati a metterli dentro dei confini che sono schematici e alla fine alla gente gli interessa soltanto andare a vedere vediamo quanto gli ha dato tipo classifica gli interessa anche vedere se una cosa è meglio di un'altra invece che più interessante poi magari hai quarto d'ora venti minuti mezz'ora di video e quelli vanno solo avete il voto e tu può essere questa cosa è la società di oggi ormai è basata così ma tu hai il dovere di proporre un'alternativa ah ok no certo la società va in una direzione però stiamo andando al punto tu puoi cavalcare un qualcosa oppure riconoscere una criticità in quel qualcosa e con due cose da fare lamentarti perché le cose sono in una maniera diversa rispetto a come le vuoi oppure dopo esserti sfogato e aver spiegato quali sono le criticità proporre qualcosa di alternativo il nostro è un paese che vive campa di lamentele e non sopravvive perché non c'è nessuna forza propositiva che sia antagonista al mainstream noi abbiamo solo mainstream e hai realtà alternative che sognano di essere mainstream sono tutti wannabe's del mainstream quindi questo non fa che rafforzare il mainstream noi di mainstream invece moriremo perché è una sorta di pensiero di pensiero unico quindi io a un certo punto ho capito che tante cose non mi piacevano quando è che hai iniziato quattro anni fa ho iniziato ho iniziato quattro anni fa con ma facendo un percorso anche mio dove delle cose che adoravo oggi non riesco più ad ascoltarle per esempio perché la musica è il gusto sempre che esista il concetto di gusto che sia qualcosa di reale è in relazione a quello che tu conosci io oggi posso sentire un pezzo dei toto e dire è la cosa più bella del mondo se conosco toto è probabilmente affini se dopo aver sentito lo scibile o dopo aver sentito un miliardo di cose ti continuo a dire che i toto è quella solo è la cosa più bella del mondo io ti dico bene però probabilmente tu fai un mestiere diverso dal mio tu sei uno che ascolta musica io sono uno che deve ascolta musica perché gli piace però cerca di comprendere qual è stata la storia comprendere come nel nostro paese questa storia si è stata raccontata in maniera diversa rispetto ad altri paesi dove artisti album fondamentali non sono i nostri noi abbiamo altre concezioni noi pensiamo che ci siano tutta una serie di album che siano stati fondamentali c'è qualche esempio tante cose cioè non cioè ti riferisci proprio alla musica leggera ti parlo di generi musicali ti parlo di tante cose no in pochi comprendono non so quanto fondamentale sia stato il crowd rock nella storia cioè perché non riescono a unire i puntini a capire che quasi tutto quello che tu ascolti dagli anni diciamo dal 78 ma anche un po' prima in poi dipenda da quei tedeschi pionieri che hanno iniziato a fare una roba che poi è stato ripreso e tu lo senti anche nell'elettronica di oggi lo senti in tantissime cose semplicemente non lo sanno quindi non capiscono chi sono realmente quelli importanti ah i Pink Floyd sì sicuramente certo nessuno mette in dubbio che ma ci sono stati pionieri e ci sono stati altri che non lo sono stati cioè per quello che ovviamente ci sono artisti che sono più importanti di altri ci sono stati anche i pionieri involontari quelli che hanno diciamo finivano per creare un qualcosa involontariamente loro non ci sono non è che hanno detto oggi noi inventeremo la musica elettronica però De Riffo di Raff hanno inventato la musica elettronica e magari gliel'hanno spiegato dopo l'hanno capito anche loro dopo ed è importante che tu metti non so le pietre miliari esattamente tutti gli step come se fosse la Pasqua la processione la via crucis ci sono le stazioni e tu nelle stazioni devi capire ok musica elettronica perché ascolto musica elettronica ascolti musica elettronica perché viene da questo questo e quest'altro e tu inizi già a rimettere un po' a posto il disegno inizi sicuramente a essere meno sonob nei confronti di alcuni generi noi per esempio nel nostro paese ignoriamo quasi interamente la musica black è che la musica la musica rap anzi è la versione del rocchettaro italiano italiano fuori non è così c'è molta più commistione c'è la capacità di apprezzare un disco di Kanye West la stessa non è un po' la capacità di riuscire per te diciamo per come viene apprezzata adesso la musica rap non è perché adesso comunque è abbastanza mainstream la musica rap cioè nel senso se penso a tu stai parlando salmo mondo marcio tu stai parlando di Italia sì 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 parlo di Italia scusa ok sono situazioni comunque diverse sì sì sono situazioni diverse perché molto spesso chi ascolta il rap in Italia non parte dall'influenza statunitense o dalla storia statunitense magari parte dai sangue misto sì parte direttamente dal 1990 92 parte da altre esperienze cioè mentre quella generazione lì sapeva perfettamente da dove veniva oggi è già molto più difficile capire proprio perché devi mettere in relazione di capire la storia è come l'evoluzione non è che a un certo punto hai avuto l'home erectus dal nulla sono stati degli step sono stati delle cose e questo ti aiuta anche a vivere nei confronti della musica un rapporto molto più bonario e meno classista cioè meno noi siamo molto razzisti nei confronti della musica soprattutto nel nostro paese perché per noi appunto la musica black fa schifo la musica rap yo yo la musica discoteca tunes tunes vedi come è già capito è razzista vuol dire non comprendere vuol dire non andare oltre vuol dire non comprendere fermati sai leggere un pezzo rap sai come si ascolta un pezzo rap cosa devi andare a sentire in un pezzo rap è monotono è sempre non c'è la melodia certo è ovvio che non c'è la melodia perché è un'altra espressione ma chiediti perché sono 50 anni che quella roba domina in paesi dove evidentemente c'è una mescolanza culturale chiediti perché ti piace tanto il trip hop ma poi non ti piace il rap è assurdo ti piacciono i porti se ti piacciono i massimi attacchi non ti piace il rap sei scemo è come se dicessi non so mi piace uno scippatore ma non mi piace uno che ruba è qualcosa che non va capisci perché chiaramente non puoi non apprezzare apprezzare un genere che è la mescolanza di quelle cose lì mi piace un ipolist odio il reg stai dicendo impossibile quello è proprio quel genere nasce mescolando il punk al reg se non fai questa i clash ti piacciono ma non ascolto il punk spari chiaramente diventa folle questo tu dici è un fenomeno comunque italiano questo razzismo allora il problema è a un certo punto è l'assenza della spiegazione e della narrazione chiaramente tu non vai avanti ad algoritmi né sostituisci con gli algoritmi quello che le guide fanno quello che i divulgatori fanno cioè le persone che devono spiegarti la musica e a un certo punto io mi sono guardato intorno ho visto c'è ancora qualcuno che divulga musica in età vai a vedere quelli che sono rimasti di che cosa mi parli oggi ah The Dark Side of the Moon bello un disco di 73 interessante raccontamelo per la centomilionesima volta che forse quella virgola negli articoli di altri milioni di persone non l'ho mai letta siamo fermi a raccontare quei classici di quella storia raccontata in quella maniera per la centomilionesima volta nessuno ti sta raccontando cosa succede in altri paesi tu sai che cosa succede negli Stati Uniti oggi sai conosci la scena post-punk inglese o irlandese di oggi tu hai contatti con quello che stanno facendo nel jazz soprattutto i britannici no quindi tu hai una concezione della musica nel momento in cui non ti viene più raccontata la musica è una percezione come tante cose come sono le donne non lo so non ci vado da vent'anni è la risposta più giusta come sono le donne risposta giusta non ci vado da vent'anni sono brutte perché non ci vai da vent'anni altrimenti risponderesti che probabilmente è diverso la musica è la stessa cosa perché il percepito è quello che non ti basi su un qualcosa che è una sensazione vedo che in classifica non finiscono più gruppi rock il rock è morto accendo virgin che rock mi mettono i clash il rock storico e di oggi niente il rock è morto quando boh 91 95 97 fai tu è percepito oggi non hai più artisti che diventano famosi come i Led Zeppelin la musica è morta la musica di oggi fa schifo ed è la cosa più semplice da dire più pigra da dire perché non parte da nessuna ricerca la musica la ricercano solo alcuni anche ai tempi nostri chi si andava a ricerca la musica erano pochissimi il resto erano condizionamenti esterni era un inquinamento che ti veniva dall'accendere la radio la televisione il tuo amico il negoziante sotto casa avevi tanti consiglieri avevi tante persone che ti consigliavano musica e quindi anche se tu avevi semplicemente un gusto un'inclinazione mi piace quel tipo di genere mi piace la dark wave però non è detto che tu andassi a cercare delle cose dovevi appigliarti alla fanzine a questa immagina di prendere tutte queste cose e farle sparire in un colpo solo tu probabilmente non sai neanche che esista la dark wave quello è il problema e se lo sai ti devi muovere come? con l'algoritmo è la stessa cosa? no infatti noi abbiamo tanta musica che conosciamo ma non sappiamo chi la canta l'ho sentito sto pezzo nelle playlist l'ho sentito chi è? non lo so da che disco? di quando è? non lo so come vedi tu questa cosa che ormai c'è Spotify c'è lo streaming la diffusione? Spotify è un canale ma non è una guida esatto Spotify è un è il negozio dove tu vai e peschi ok ma è un negozio senza il negoziante c'è un robot all'ingresso che ti dice hai ascoltato questo prova a prendere questo e quello ti dà una roba ma non ti dice che cos'è non c'è nessun calore non c'è niente quindi a te non resta nulla di quell'esperienza se non sei tu a fissarla ma ripeto tante persone non lavorano così tu magari quel nome te lo senti e te lo ricordi noi quante cose ci ricordiamo degli anni come mi ricordo i nomi storpia siuxi and the benches l'avevi sentito talmente tante volte che per te si chiama siuxi si chiama Susi poi vai in grittura e dice a chi ti piace a te siuxi chi cazzo è ah Susi and the benches hai dato paura capito ma tu quel nome l'hai sentito talmente tante volte oggi tu non lo leggi nemmeno non sai neanche cosa sia non potrebbe mai conficcarti se nella mente una cosa sbagliata perché non lo sai cioè noi ci abbiamo avuto un'infinità dei nomi sbagliati mi hai ricordato di quando sono andato i Judas Price quante volte l'abbiamo sentito i Judas Price devo fare questo outing io quando è uscito a Song 2 dei Blair passandoci la voce con gli amici sono andato in negozio avete il disco dei Blur dei Blur per me erano i Blur e io l'ho detto così e quello ci è rimasto scioccato io prima di andare in Inghilterra ero convinto che Supercar si chiamasse Supercar che telefilm ti guardavi Supercar ma come in inglese Supercar cazzo Supercar ma qual è Hit dai la macchina ah Night Rider ah Night Rider bravo Night Rider però chiaramente tutto parte la tua cultura è formata sul passaparola è formata sul contatto con altre persone oggi formarti in una cultura è difficile la cultura è un fai da te oggi l'appassionato di musica oggi è uno che si fa un culo cento volte più grande rispetto ad allora io oggi a mezzanotte non lo farò mai a mezzanotte farò domani mattina all'alba uscendo i dischi io devo ascoltarmi e scrivarmi 200-250 canzoni per poter proporre un programma con 20 novità musicali cioè devo ridurre 250 canzoni oltre a tutte quelle che ho ascoltato in settimana per farne 20 da offrire al mio pubblico se non avessi un pubblico lo farei ugualmente sono un appassionato che capisce che deve fare ricerche si deve fare un culo così perché non c'è nessuno che mi raccomanda mi consiglia mi dice guarda che questa cosa devi andare a farla eccetera e non siamo tutti tagliati per fare questo no anche perché ora non per farmi i cazzi tuoi però nel senso come dire è un mestiere cioè tu fai di lavoro questo adesso cioè nel senso questo è il mio mestiere certo questo è il mio mestiere perché perché qualcuno ho capito che qualcuno lo deve fare nel senso non è facile voglio dire vivere di questa cosa oggi no per me è facile per un motivo è quello che voglio fare è il mio mestiere io ho sempre fatto un mestiere che ho scelto di fare ok cioè non mi è mai pesato il mio mestiere non è facile intendo arrivare a fine mese come dire con le donazioni ti devi rimboccare le maniche e dopo quattro anni che l'ho fatto senza mai mollare a differenza di tanti altri che sono web curious cioè vengono a dare un'occhiata intanto vedi non so un cattelan viene si fa la sua diretta una volta ogni due mesi fa due ore poi non rivedi più no ma infatti è bella questa cosa è una costanza pazzesca devi lavorare devi fare legna domani mattina rialzi e ascolti tutte queste robe qua per poi è un lavoro ma è un lavoro come l'ho sempre fatto nel senso che comunque questa è un'etica lavorativa io sono abituato a preparare un programma vuol dire preparare un programma cioè andare in onda schiacciare on air vuol dire prepararti arrivare preparato non andare lì e fare una cialtronata dove dai la putti in cacciare e vediamo che succede serve avere comunque sono contento di aver avuto tutta questa parte chiamiamola analogica prima di arrivare al digitale ovviamente no? però questo sicuramente è importante però non è detto che sia necessario proprio perché oggi c'hai tante altre persone che riescono a comunicare in maniera molto diretta proprio perché la pretesa è più bassa non è che il pubblico pretenda che tu arrivi preparato il pubblico non pretende che tu abbia scremato 250 canzoni capisci? avere un pubblico più pretenzioso secondo me è una delle chiavi più importanti culturali per questo paese un pubblico che non si accontenta se il nostro pubblico non si accontentasse riuscirebbe a criticare il tipo la fiction italiana tradizionale perché direbbe cazzo ma io guardo Netflix non posso guardare Don Matteo perché ci sono secoli di distanza tra quella cosa lì e quell'altra ma nessuno lo pretende un pubblico che non pretende non porta a dirigenti a creare a imporre ai loro creativi prodotti migliori come il tuo pubblico cioè che percezione hai? il mio pubblico è piuttosto educato nel senso che siamo arrivati a questo tipo di percorso dopo quattro anni sono un'infinità se trasmetti sei giorni su set sei partito subito così? no io sono partito e avevo 15 ascoltatori no no dico come 20 ascoltatori cioè sei giorni su set no però ho iniziato ho capito che se doveva essere il mio lavoro dovevo iniziare ma ci sono tutti i step tu devi resistere quando non guadagni nulla non non hai pubblico però capisci che la cosa che stai facendo per quei pochi è fondamentale e allora devi allargare devi lavorare in un mondo che non ha comunicazione non c'è diffusione non c'è viralità soprattutto su piattaforme magari come Twitch che lavorano sulle live dove non c'è assolutamente viralità non funziona come YouTube dove puoi beccare un giro d'algoritmo fortunato e diventare improvvisamente famoso è molto complicato quindi devi fare legna devi lavorare tantissimo lavorare non hai fatto ad allargare il pubblico con passaparola con Facebook con dipende secondo me intanto con la qualità cioè la qualità devi metterla come prima cosa perché sennò tu deludi anche quei pochi che c'hai se gli abbassi la qualità ovviamente ne ti senti secondo me è quello e più lavori più metti in discussione quello che fai io provavo a fare tanti format alcuni erano per me meravigliosi dei format bellissimi non li cagava nessuno gli devi dire creatura mia ti ho voluto tanto bene però purtroppo ti devo mettere via e devi costantemente metterti in discussione fino a che non capisci il web funziona in una maniera non puoi piacere a tutti più sei largo e meno catturi devi essere una lama di rasoio devi essere la lama di una spada devi tagliarti il tuo spazio in una nicchia e poi sperare se pensi che quella nicchia sia più larga e che tu ne stia intercettando solo una parte devi lavorare sulla sensibilizzazione quindi invogliare al passaparola e poi cercare di capire come andare a beccare anche gli altri il mondo dell'alternative in Italia è un mondo molto più diffuso rispetto a chi mi segue però è anche un mondo che vive di tanti pregiudizi vive del fatto della musica di oggi fa schifo la prima cosa che devi smontare è questa io a un certo punto ho capito che la prima cosa che dovevo smontare era questo percepito questo adagio che la musica di oggi fa schifo la musica mainstream italiana di oggi fa schifo la musica mondiale non mainstream non fa schifo è bella come sempre e la musica italiana non mainstream non esiste ah ecco questo è il problema in Italia abbiamo un problema diverso è il problema di non aver creato e sviluppato una controcultura quindi stiamo è solo mainstream e dai soltanto una controcultura che vuole essere il mainstream e quindi abbiamo raso al suolo anni di etichette indipendenti anni di sale prove anni di voglia io ho appena aperto un'etichetta peraltro anche la musica che si definisce indipendente ormai copia dall'altra musica che deve essere indipendente ma la musica indie italiana è uno dei più grandi paradossi che esistano perché indie nel senso che sono etichette indipendenti che propongono la stessa roba che una major proporrebbe tipo Tommaso Paradiso per dirti è una roba assolutamente mainstream che però parte da un'etichetta indipendente perché perché la major è cieca non intercetta nulla manco Tommaso Paradiso cioè ha delle maglie talmente atrofizzate che non gli ci resta in mezzo intrappolato neanche Tommaso Paradiso casca tutto bancia le maglie ogni maglia è grossa le indipendenti hanno capito questa cosa qui fanno quel minimo di lavoro di scouting territoriale intercettano questi artisti sperando nel giro di due o tre anni di venderli alle major cosa comporta questo? che le major che dovrebbero fare un lavoro anche minimo di scouting hanno la scusa per non farlo tanto ti prendo appena l'hai portata al successo perché quegli artisti così come le loro etichette crescono con il mito della major io sto su Bomba Records bello mi ha chiamato Sony Universal vado a Sony Universal non nascono con l'idea di controcultura non nascono con l'idea di faccio la mia carriera su Bomba Records perché capisco che ho più libertà posso crescere in maniera migliore posso sviluppare la mia artisticità in maniera diversa loro tutti sognano quello così come un ragazzino sogna la televisione oggi non è neanche sognare la televisione oggi un adolescente sogna la fama l'adolescente come sua madre e suo padre sognano la fama sognano semplicemente diventare famosi come è uguale è uguale è uguale un argomento che trattiamo spesso e che mi interessa anche parlare di questo appunto a proposito di questo discorso sono i social cioè come cambiare il mondo tu che rapporto hai con i social a parte con quelli che utilizzi per trasmettere ma che sono i social io uso esclusivamente facebook come materiale cioè come luogo di promozione come vetrina quindi domani faccio questo domani faccio quest'altro Instagram non lo uso praticamente perché è un luogo di ho visto infatti non riuscivo nemmeno a menzionarti nella storia ho proibito le menzioni no ma perché odio i posti che sono solo di non di contenuto cioè mi interessano i contenuti quello è un posto che dice domani faccio sta roba e non hai nessuna conversione perché è un pubblico che guarda soltanto l'aspetto cioè non gli interessa lo tengo così un po' così twitter mi diverte ma parlo fondamentalmente di milano oppure posto le canzoni che passo durante le mie le mie trasmissioni perché sei tifoso da romano scusa non è gravissimo questa cosa non vorrei creare però se hai un cugino che gioca nel milano quando hai otto anni hai un cugino che giocava nel milano l'anno dopo non era a Roma però Massaro no no Aldo Bet no prima Aldo Bet tra l'altro del Veneto di zona diciamo più o meno io non ero ancora nato quando avevi otto anni no può essere e quindi niente detto questo i miei rapporti di social sono praticamente zero cioè io uso piattaforme di streaming che sono diverse perché YouTube spesso si sente dire che YouTube e Twitch siano dei social non sono affatto dei social non risentono delle dinamiche dei social quindi la tentazione di chiuderla è molto forte però finché parte della discovery di quello che faccio io deve passare è necessario assolutamente poi nel momento in cui ti conoscono a priori e quello che tu stai facendo arriva inevitabilmente non hai più bisogno neanche dei social non hai più bisogno vado in onda faccio questo oppure devi pubblicizzare un'intervista hai un pubblico che ragiona su di te a scatola chiusa ancora non ho un pubblico che ragiona interamente a scatola chiusa quindi no ma secondo te il fatto che tu comunque avessi un progresso televisivo ti ha aiutato comunque nello sviluppo della community online per me sì ma anche nel modo di comunicare ovviamente il fatto che tu sai come gestire le cose sì intendo dire il tuo pubblico anche visto che non usi molto Facebook gestire il pubblico e gestire le cose io ho un rapporto molto particolare col pubblico loro lo sanno due di loro sono no una non è pubblico perché la fidanzata mia però è anche pubblico ah no vabbè a volte no lei è proprio in onda parla è una voce fuori campo nel programma però al di là di questo però due lo sanno cioè io sono tutto tranne che delicato nei confronti del mio pubblico perché cerco di stimolarlo quindi non dargli certezze anzi spesso li tratto male penso si possa dire che cerco di sono molto netto no sono molto netto nel senso che pretendo che loro pretendano e pretendo che si inneschi nel pubblico non una passività ma si inneschi un modo di essere attivi ho insegnato la maggior parte di loro come si scopre musica per non essere dipendenti da me perché domani per qualsiasi motivo posso smettere di fare streaming non devo essere cioè devo aver creato persone in grado di scoprire musica di andare avanti di poter contagiare qualcun altro di proseguire in quel tipo di esperienza quindi comunque interagisci sempre con loro sì 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 non sei uno che se la tira certo però cerco di far capire come abbiano ascoltato realmente spesso cose scadenti senza e di non darle per scontate di non di non amare eccessivamente non giustificare eccessivamente i propri sentimenti i propri ricordi nel senso è tutto rispettabile tutti abbiamo ascoltato musica scadente nella nostra vita però l'importante è anche comprendere cosa abbiamo ascoltato e uscire da questa mentalità della difesa cieca di come se ti avessero toccato mamma e papà non è così è un disco è musica è un'altra roba tu c'hai tanti ricordi legati a quello spesso abbiamo letto degli studi anche che testimoniano come si crei proprio un imprinting tra gli 11 e i 18 anni quello che ascolti tra gli 11 e i 18 anni ti resta lì dentro e se ascolti musica è facile che tu a 40 anni se ti toccano quella roba lì tu dici io ti ammazzo tu non capisci niente sei un spazio io ascoltavo solo i dream theater tra gli 11 e i 18 anni capito io ascoltavo gli ice mc mi siete un po' più io ho suonato in una tribute band dei dream theater quindi mi sa che è meglio che stai al centro però sono aperto al dialogo certo parla pure scusate perché sto monopolizzando no è uno studio guarda è uscito quanti giorni fa era due o tre giorni due o tre giorni fa una cosa anche molto recente molto interessante ovviamente sono studi primariamente credo fosse inglese uno studio nasceva in Inghilterra dove bello perché parlano di musica in maniera anche approfondita insomma forse quindi devo ricominciare a sentire i dream theater ormai è finita penso il concetto o sperare di rinascere rincarare fortemente nella rincarazione sai che è Antonello Venditti però ascoltava Antonello Venditti i dream theater quindi sarei un amante della melodia però anche della tecnica con i tempi di israeli potrei fare un gruppo così vabbè poi ci metto e tu invece che ascoltavi tra gli 11 e 18? Melton John Lucio Dalla Battiato sì però pure Monnezza nel senso che ascoltavo pure tanto metal quindi ma qual è il metal Monnezza per te? no però cioè ascoltavo delle cose tipo i Manowar no pure ascoltavo pure i Manowar ascoltavo pure i Manowar però ascoltavo un sacco di musica allora cercavo l'emozionalità attraverso l'epico la violenza ok quindi ascoltavo musica di taglio operettistico tipo i Maiden di Bruce Dickinson ascoltavo un sacco di roba appunto i Manowar cioè che fondamentalmente per un italiano è normale perché vieni dall'operetta cioè vieni da quel tipo vieni dall'opera vieni dalla musica classica certe melodie da gente che si canta no da gente che si canta il cuore in quella maniera quindi ovviamente quella roba lì i Queenstrike per esempio no? che per carità ancora delle cose di loro non riesco proprio a toglierle ma perché ne riconosco l'importanza però è chiaro che è tutto questo mondo esageratamente aulico cioè è barocco da morire negli anni ho capito che tutto il barocco secondo me lo puoi prendere e buttarlo nell'umido perché che comunque è meglio del secco guarda è che eticamente è nel senso è l'equivalente di Mario Mero e della sceneggiata napoletana nel senso che se tu devi emozionarmi puoi farlo anche nel minimalismo non c'è bisogno che ti strappi il cuore che tu mi raccomando soprattutto poi tematicamente anche crescendo cioè se quando avevo 15 anni mi potevi raccontare la storia dell'epica non so leggendaria dell'uomo mezzo mezzo a moto e mezzo robot magari quando hai 25 anni inizia a diventare più difficile quando inizia averne 35 è più difficile quando ce n'è 45 e ancora te senti painkiller con quel tipo di trasporto secondo me se non l'hai ancora messo in discussione per carità sei libero di amarlo per tutta la vita e di pensare sia la cosa più grandiosa del mondo però io faccio un altro mestiere quindi onestamente è chiaro che se prendo painkiller e la devo paragonare a Nick Cave cioè ma ha senso paragonare la coabitazione mi fa fatica e beh ma nel senso a un certo punto devi mettere creare una scala di valori noi facciamo classifiche tutto il tempo inevitabilmente nella nostra mente cioè lo fai dalle tue ex fidanzate ad altre poi c'è poi che scegli di non farlo però è un po' una forma mentis altrimenti non andrebbero così di moda le 10 migliori canzoni di i 5 migliori album di sono le cose che tirano di più perché la gente ragiona catalogando quindi dei subsoni cosa pensi? non penso no nel senso non è come se tu mi chiedessi che cosa ne pensi di un film che è uscito localmente e che cioè secondo me non sono importanti all'interno della musica italiana della no io non ho mai ragionato in termini di musica italiana per me la musica è una per me la musica è una nel momento in cui tu la regionalizzi secondo me vuol dire che quella roba già non ha un respiro internazionale vuol dire che già per giustificarla la devi regionalizzare quindi cioè è come passare da Miss Mondo a Miss Palazzo Tuo ok 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 però Battiato Battiato è un altro discorso Battiato è stato importante per tanti però Battiato per quanto io sia un amante esagerato di Battiato sì il livello innovativo mondiale di Battiato è sicuramente molto più ridimensionato poi ha fatto degli album grandissimi nel senso mi spiego non cerco necessariamente in chi mi piace che sia innovatore che sia fondamentale mi accontento tranquillamente di qualcuno che faccia una musica bellissima anche se non cambia la vita e le sorti di centinaia di migliaia di persone non mi interessa Battiato ha fatto degli album grandiosi di musica punto poi se assomigliasse a questo a quell'altro se nei suoi riferimenti ci fosse questo a quest'altro mi interessa di meno altrimenti dovrei ridimensionare De Andrè dovrei ridimensionare De Gregori dovrei ridimensionare talmente tanti di quelli che ho amato che diventerebbe semplicemente un esercizio ascoltare la musica invece non è così cioè nel senso è importante mettere tutto in una prospettiva da qui a diventare uno sterile file di catalogazione è un'altra storia la musica è comunque sempre emozione e resterà sempre per me emozione quindi chiaro che se ascolto una roba che mi emoziona posso piangere con Carrie degli Europe capisci però so che se tu mi dici io faccio costantemente in macchina però se tu mi dici che cos'è Carrie degli Europe nella storia della musica una caccoletta buona per qualche periodo io da musicista quando sento cioè io cosa dovrei fare nel senso non lo so perché non so qual è il tuo problema tantissimi ma siamo qua proprio per questo no no in realtà il punto è che avvolto la percezione ora dimmi tu cioè scusate finisco un attimo il discorso dei Carrie degli Europe a me Carrie degli Europe piace tantissimo come mi può piacere True the Barry case degli Spandau Ballet ok o Live to Tell di Madonna per me sono grandissime canzoni pop di quello che ti pare di musica in generale è chiaro che se tu mi dici cosa rappresentano io ti dico sono stati dei pezzi di grande successo di largo successo giustificato dal fatto che fossero effettivamente delle ottime canzoni ma da parte di artisti non sicuramente fondamentali cioè Madonna non sarà mai Michael Jackson gli Spandau Ballet probabilmente saranno manco mai Duran Duran per dirti e quindi ci saranno una serie di considerazioni ma se tu se domani arriva Tizio e mi dice ma guarda che Carrie degli Europe è il nulla io non mi scaglio contro di lui perché Carrie degli Europe per me è un sentimento dico hai ragione ma a me piace tanto perché mi emoziona allora entriamo nella sfera emozionale cioè io per primo riconosco che quella roba lì non ha una valenza artistica cioè non è un pezzo non posso mai paragonarla a God di Lennon sarà sempre una robetta fatta da persone che però hanno imbroccato in quel momento certe congiunzioni astrali erano ispirati sicuramente hanno fatto un'ottima canzone che ancora adesso mi ricorda tante cose mi piace ascoltare ma sono il primo a ridimensionare la portata di quella cosa lì se domani io dovessi sentire la lesa maestà perché mi toccano Carrie degli Europe mi sentirei assolutamente fuori è come però quel tipo di lesa maestà è come l'italiano vive la musica è come molte persone vivono la musica se io domani faccio un post se poi lo faccio adesso a provocazione e scrivo Carrie degli Europe è una merda cioè è una scoreggia nell'universo mondiale ok arrivano i risentiti e arrivano quelli che fanno esattamente questa roba qui io tra le altre cose cerco esattamente di combattere questo tipo di atteggiamento è estremamente tossico nei confronti di un qualcosa che è un piacere ok volevo però chiederti una cosa perché questi discorsi che ovviamente comprendo nella logica come dire tra virgolette esterno cioè se se tu facessi musica ok se tu facessi il musicista tu hai fatto comunque il musicista ma al di là di questo sai cosa vuol dire cioè questi discorsi sono schiaccianti cioè nel momento in cui tu dici io comunque rispetto a quella roba lì rispetto a questi giganti cosa posso fare come potrò mai no ma i giganti hanno fatto musica senza non so se ho spiegato quello che voglio dire nel senso che i giganti facevano musica ben prima di sapere di poter essere o diventare giganti quindi sì e poi non è detto che nel mondo è un po' deprimente come dire nella storia se andiamo a prendere la storia della musica e andiamo a guardare indietro non è che trovi solo i giganti sì sì certo certo trovi in mezzo ai giganti tantissimi di media statura e tantissimi anche di piccola statura che hanno fatto la storia tanto quanto certo poi è chiaro che se tu mi parli di chi sono stati i rivoluzionari allora entriamo in un'altra classificazione in un altro tipo di discorso e ti dico i rivoluzionari sono stati questi questi e questi altri sicuramente non te metto cari degli Europe se tu mi dici ma nel 1986 qual è stata la canzone più importante vado a vedere cari degli Europe se lo dico ha un senso sì 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 ora se tu fai musica tu fai quello che ti senti di fare era giusto così cioè noi facciamo sicuramente basandoci su quello tranne appunto gli innovativi facciamo musica basata sui propri gusti i nostri gusti e su quello che conosciamo o cercando di rifare o cercando di dare un nostro taglio o semplicemente mettendo il nostro gusto su delle cose che sono più o meno già state fatte ed è assolutamente la norma non c'è niente di male in questo quello che trovo in questo paese è che se oggi tu dai e ascolti il materiale che ti può provenire da 200 band o 200 artisti emergenti non firmati c'è proprio un vuoto nelle in quello che loro fanno perché si rifanno a musica di 20 anni fa cioè gli mancano proprio netti i 20 anni di musica che sono i 20 anni in cui hanno spento le radio le televisioni le riviste i giornali non sanno cosa è successo nel mondo quindi fanno i system of a down oppure fanno il new metal oggi tu dici che cazzo fai il new metal oggi lo fai solo te nel senso o tu speri di essere tu quello che rilancia il new metal nel mondo sennò sappi che lo stai a fare solo te oppure lo stanno facendo soltanto gli italiani oppure senti che fanno il post rock in Italia è pieno di band che fanno il post rock dei 20 anni fa dei mogwai eccetera 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 oppure stanno lì e fanno le robe un po' alla porchio pine tree queste cose così e tu gli dici raga ma prendete conti i vostri riferimenti sono tutti i 20 anni fa 20 anni fa cioè avete sentito altre cose e questo anche in parte perché perché poi è sempre roba tecnica in linea di massima cioè è difficile tu trovi un pischello che oggi fa il punk rock di 20 anni fa che già però rifaccio i green day è già più difficile è più difficile noi abbiamo una tendenza a rifare certe cose che fanno un po' parte anche del nostro DNA che sono appunto la tecnica cioè siamo convinti che la musica sia una serie di tecnicismi eccetera e questo secondo me è un po' rovina se ci fosse uno spirito gli inglesi non faranno mai questo perché nel loro spirito c'è attacca e suona gli americani fanno questo attaccano e suonano molto dipendenti comunque dal dal giudizio l'italiano può essere che attacca poi sta a tre ore a fare il suono prima di suonare quello è il problema e cosa pensi della trap dei movimenti diciamo culturali giovanili musicali di oggi cioè a proposito del fatto che i musicisti stanno tutti a fare roba la trap statunitense io non la amo particolarmente salvo un paio di eccezioni e con episodi occasionali perché trovo che sia una sorta di involuzione dell'hip hop ok un'involuzione del rap nel senso che il rap è arrivato a un certo momento ha una saturazione Kanye West ha mostrato una strada di potenziale senza volerlo fare lui perché non è stato l'antesignano però ha impostato l'autotune per tutti ha impostato l'808 per tutti da lì nasce la trap senza quel disco che Kanye West probabilmente a pochi gli verrebbe in mente di usare quelle cose lì di usare i terzinati eccetera quindi nasce ad Atlanta si sviluppa in una zona che comunque ha prodotto il southern rap quindi il rap più colto rispetto a quello delle due coste est e ovest con gli outcast cioè parliamo il luogo del rap più elevato probabilmente sia culturalmente che musicalmente che ci siamo in stato poi questo discutibile nel senso che comunque sia New York e Los Angeles che comunque la West Coast hanno fatto la storia tanto quanto però è curioso che nasca da Atlanta non nasca da nessuna delle due coste dove si sviluppa un qualcosa che è volutamente apolitico non è sociale abbastanza tanto quanto il resto del rap e sviluppa e porta all'esasperazione una serie di soluzioni che sono essenziali rispetto al rap il rap ha due momenti grossi il rap suonato con la programmazione quindi con le batterie elettroniche tutto il rap della prima ondata il classic rap e il rap è basato sui campionamenti che è tutto il boom bap quello che degli anni 90 eccetera tardi 80 inizio 90 che è tutto basato invece sui campionamenti e da lì quindi l'apertura al jazz in base a quello che campiono cambia il mio suono negli anni 80 nei primi anni 80 in base alla batteria elettronica che uso infatti lo stile dell'andienzi non c'entra niente con quello per esempio di altre formazioni successivamente di dottor dre o compagnia bella successivamente quindi questo già è fondamentale si ritorna a un rap suonato e programmato perché la trap non dipende così fortemente dai campioni è fondamentalmente suonata con la 808 quindi strumento dell'origine con quelle innovazioni che aveva portato fondamentalmente Kanye West appunto l'utilizzo dell'autotune sulla voce e un mumble rap si chiama mumble rap quello che fanno nella trap perché è un rap di ascicato cioè non esposto in maniera chiara questo questo rap è molto essenziale e è andato verso un eccesso secondo me di essenzialità cioè si è persa la musicalità del genere e questo secondo me è un male del motivo forse per cui non mi sono mai avvicinato cioè mi sono avvicinato ma non mi ha mai preso più di tanto lo trovo molto ripetitivo e un po' banalotto ok tecnicamente meno evoluto rispetto però con una diffusione gigantesca in Italia hanno ripreso questa roba qui e l'hanno rifatta adattandola ai nostri contesti ed altro non nella stessa maniera ok perché credo che vocalmente continuiamo ad avere distanze siderali così come lo avevamo nel rap italiano rispetto al rap statunitense ma anche inglese ma anche francese ok sempre molto indietro proprio vocalmente idem nella trap abbiamo cantanti che non sono realmente tecnici per essere credibili infatti restano sempre confinati qua dentro è difficile che escano fuori ok quindi boh è un po' un impoverimento del rap al di là dell'aspetto musicale comunque il fatto che i giovani culturalmente tra virgolette si sentano molto vicini a questa musica è una cosa passeggera no è una cosa importante secondo me è importante se un ragazzino vuole esprimersi in quella maniera vuol dire che ritiene quel modo di esprimersi estremamente efficace quindi non colpevolizzo lui in caso colpevolizzo cosa può portarlo a pensare che quello sia efficace ma effettivamente sarebbe un discorso un po' da boomer pensare che si esprimano male si esprimono come si sentono ad esprimersi tra vent'anni staremo a dire a paragonare la trap di oggi a non lo so la rock degli anni non lo so guarda la fusion penso che nei primi anni 2000 magari tanti dicevano ma staremo qui a parlare del rap tra vent'anni sì e ne parli fondamentalmente dall'ottanta quindi sì nel senso voglia sì ne parli è sottovalutare quella cosa è ridurlo a una sorta di banale sottocultura che è sbagliato è non capire l'importanza e non capire nel linguaggio dire si esprimono male vuol dire non provo neanche a provare a capirti invece secondo me devi provare a capire e capire perché si esprimono così se per un giovane è essenziale esprimersi in quella maniera tu lo devi rispettare non puoi fare nulla puoi spiegargli nel senso puoi noi dobbiamo dare alternative in maniera affascinante non in maniera da professori tanti genitori sono sicuro che consigliano ai propri figli i dischi nella maniera peggiore ascolti la merda pam ecco i pin floyd io ragazzino quel disco lì avrei raggi laser contro quel disco non lo vorrò mai vedere perché tu me lo stai imponendo e me lo stai imponendo in contrapposizione a quello che ascolti però io ho due figlie cioè due gemelle hanno cinque anni e si ascoltano le canzoni di me contro te va benissimo a undici anni poniti il problema quando subentra l'imprinting fino a undici fino a undici vai tranquillo poi dopo i diciotto possono tornarti a sentire me contro te ah ok quindi ancora dopo i diciotto guarda io mio figlio che ascolta Imaneskin mio figlio si ascolta Sfera Vai Seren quanti anni ha scusate undici è finita mi sa che bisogna iniziare nel periodo critico e non è manco del Milan quindi lasciamo stare della Roma lasciamo stare meglio che della Lazio da quello che penso lasciamo stare Paoletto dici qualcosa tu perché volete chi fare dire qualcosa voi perché ho parlato un sacco io no io ho tanto da dire però e di 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 no 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 tu sei affascinato da tutta questa io parlerei ora questa conoscenza no perché io devo dire che sono un po' un po' pigro come dici tu però non dico che la musica di oggi fa schifo mi rendo conto che comunque il problema sono io poi volevo dire un'altra cosa ma me la so scordato aspettavo tutto il tempo questo momento io se il pubblico non avete domande io vado con una domanda però vi lascio spazio cioè il podcast è di tutti ora faccio finta di essere inclusivo non me ne frega un cazzo no 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 scherzo allora io ho una domanda ricorrente in realtà che ti faccio che la faccio a tutti che vuol dire ricorrente che faccio a tutti ah ok da undici puntate non è che sono anni però no pensavo ricorrente con me la cosa che io che ti voglio chiedere per così tanti anni ogni toste mi viene in mente che te lo devo chiedere ogni cinque minuti questa la so questa la sai allora secondo te nella riuscita di un progetto che può essere nel nostro caso musicale insomma progetto qualunque cosa nel tuo caso anche il discorso della divulgazione eccetera quanto conta il caso è una percentuale molto alta nel senso è una percentuale fondamentale puoi esprimerlo in percentuale nel senso che allora è sicuramente una percentuale importante la parte di fortuna è altissima e altrimenti ripeto sarebbe molto semplice poter prevedere o ricostruire gli eventi che portano a successo di qualcuno per citare i maneskin i maneskin sono te la giro la domanda come mai secondo te oggi ancora non hanno creato i finti maneskin cioè i maneskin di seconda categoria il mercato italiano non ha fatto la cosa più ovvia del mondo ovvero buttare sul mercato i nuovi maneskin secondo te perché a distanza di quanto? tre anni? quattro anni? perché già loro sono i nuovi maneskin non funzionano i maneskin sono i nuovi perché è stato un caso perché non sanno come si fa cioè per quanto il mercato italiano sia fatto da persone che pensano di conoscere la chiave del successo credo che nel tempo e negli anni abbiano capito che non sanno più capire perché qualcosa diventa di successo del motivo per cui oggi prendono solo artisti che hanno già un successo visualizzazioni su youtube eccetera ok quindi stanno azzerando completamente la ricerca dello scout cioè le case discografiche stanno diventando si stanno auto rendendo inutili perché diventano solo gestionali non c'è nessuna valenza artistica di una casa discografica oggi ti prendo perché quante persone hai oh questo c'è un milione di visualizzazioni vieni qua tutto quello che mi dovrebbe interessare sapere è come cazzo hai fatto avere un milione di visualizzazioni e tu mi condividi la tua esperienza io capisco intercetto un mondo e cerco di capirne le dinamiche le logiche quello è quello che dovrebbe fare la casa discografica fare promozione intervenire sull'artista scoprire il talento capire che quel talento può valere un milione di visualizzazioni oggi che ne fa dieci capito che è quello che faceva la discografia normalmente prendeva talenti spesso lì l'ha raccontato un mio amico che è stato un mega capo della discografia negli anni in cui i dischi si vendevano veramente e da lui viene il povero Radius no nemmeno manager combattiato e gli portano a lui che era il capo della EMI gli portano l'era del cinghiale bianco l'era del cinghiale bianco è un disco chitarra e voce non ci sono strumenti ritmici lui sente questo disco e dice bello però non ce lo diamo in faccia capito chiama Radius e gli dice mi prendi questo artista e me lo lavori questo faceva la case discografia prendeva un prodotto grezzo e lo trasformava in l'era del cinghiale bianco probabilmente snaturando per sempre un artista oppure mostrandogli una strada facendogli capire perché perché battiato c'era una premessa veniva da anni di sperimentazione dove a un certo punto vedeva che tutti gli arti mettevano la freccia e lo superavano facevano i soldi e lui no e lui a un certo punto ha detto io mi sono rotti i coglioni io pure voglio fare i soldi scrivo infatti quel disco scrive il cinghiale bianco però lo scrive chitarre voce cioè lui non sa come sia non è tagliato per il successo è ancora troppo artista allora la case discografia gli dà quella malizia lo modifica geneticamente però in realtà ci regala battiato per altri sei dischi imponenti capito se non di più quindi spesso anche correggere un un istinto non è detto che sia un male può essere anche un di più se quelle persone hanno l'intuito la competenza il mio amico era un bassista era un musicista era uno che aveva aperto per i Beatles quando sono stati al Vigo Rally era uno che conosceva la musica si era fatto duemila anni di sala prove dei concerti e tutto non era uno che il giorno prima stava alla l'Italia e poi l'hanno messo a fare Sony Universal capito quindi era tutto un altro tipo di classe dirigente poi vedevi di venduti mafiosi pegati i soldi con le sponsorizzazioni rovinate gli artisti quante quante abbiamo detto alle case discografiche oggi quel mondo discografico lo rimpiangi perché è quello che servirebbe cioè spesso molte esperienze commerciali spesso questa cosa esce fuori anche con NTV ah ma tu stavi nel mainstream lo so NTV era mainstream io non ero l'editore fosse stata mia avrei fatto il cacchio che volevo come faccio oggi lì non potevo ma ovviamente mi serviva anche per poter fare oggi quello che faccio nel senso che era molto rigida comunque la cosa no era un po' da spettatore sembrava abbastanza tranquilla NTV non Italia parlo di quella europea aveva una regola che era aurea di giorno le hit la sera tutte le tendenze così io come pubblico non ho soltanto il pubblico commerciale ma ho un pubblico che la sera guarda il programma di metal migliore del mondo il programma di rap migliore del mondo il programma di musica dance migliore del mondo il programma di alternativa migliore del mondo quindi prendeva tutto NTV faceva sicuramente era un fenomeno mainstream come una casa di squadra è un fenomeno mainstream noi siamo abituati a urlare e imbruttire al mondo mainstream cioè tu rovini artisti tu passi soltanto alcune cose tu tu mi passi soltanto la merda di giorno non mi basta la notte per ascoltare quella roba lì nel momento in cui hanno spento quel tipo di discografia quel tipo di mainstream e l'hanno sostituito con questo ti spiega che tu hai bisogno anche di quello spegnere è deleterio anche una roba mainstream perché ti serve perché ti serve il mainstream per poter avere una controcultura perché hai un qualcosa che si oppone a quel mainstream perché tu sei il commerciale e io faccio la mia televisione dove metto soltanto quello che tu che tu passi la notte e ti espongo così ti faccio capire che tu sbagli ho creato un'altra realtà culturale spengo la prima spengo tutto il resto non ho neanche più un nemico la musica fa schifo questa è un po' la chiave di lettura di tante cose che abbiamo vissuto cioè capire l'importanza delle cose che ci sono state e di come silenziarle toglierle gestirle malamente immagina che tu hai Alitalia prendi NTV e paracolorata Alitalia a un certo punto io però chiudo Alitalia ma non metto un'altra compagnia aerea semplicemente non voli più tu che farai ti muoverai coi treni con la macchina e a un certo punto non ci pensi più all'aereo con la musica è successa la stessa cosa la musica è passata in secondo piano ed è diventata la roba per mettere da sottofondo per una storia scopri le canzoni perché sto di sottofondo a una storia lo scopo di molti ragazzi è fare musica che poi diventi virale come lo vedi sulle storie di TikTok come lo vedo prendi i maneskin e tu capisci perché i maneskin diventano popolari in tutto il mondo grazie a TikTok per quello le case discografiche non sanno riprodurre questa roba perché non puoi controllare il TikToker infatti ne parlavo con Enzo Mazza che è il presidente della FIMI la Federazione Italiana Industria Musicale che diceva oggi noi investiamo su TikTok togliamo la promozione al manifesto all'autobus o lo spot pubblicitario bam andiamo dritti là dentro dove la musica sta diventando 30 secondi cioè paghiamo l'influenza dove la musica sta diventando le canzoni accelerate nella versione spedato quindi la discografia sta investendo nel suo killer e in una cosa che praticamente la pone in secondo terzo piano capisci perché non hanno veramente idee questo è il problema e questo è quando il mainstream non ha nessuno che lo incalza questo è quando il mainstream non ha nulla che non voglia essere mainstream perché non ha più stress quindi sti casi ci sto solo io vuoi fare musica da me devi venire tanto prima o poi da me vieni e questo secondo me è il male del mainstream tv non è mai stata questa quella discografia lì quella di battiato non è mai stata questa roba qui era concorrenziale comunque teneva un livello più alto ad esempio gruppi come Blue Vertigo come li consideri rispetto a questa cosa After Hours quel periodo lì come i Subsonica di cui abbiamo parlato non è un discorso di merda o monnezza ogni tanto mi piacerebbe sentire dall'Italia un qualcosa che non è già stato fatto su alti livelli due anni prima sentire qualcosa mi piacerebbe che l'italiano facesse allora io ascolto un sacco di band il mercoledì ho una giornata ho una puntata dove mi mandano il materiale io lo ascolto lo recensisco e cerco di dargli dei consigli oggi che cosa va di moda il post punk abbiamo una fortissima scena post punk mondiale tu che ti aspetti di sentire da un italiano che fa musica oggi va di moda il post punk e faccio quello che va di moda no stanno a fare i system of a down e tu dici cazzo raga per una volta riusciamo a stare almeno al passo con i tempi in parallelo cioè non dico anticiparli l'Italia non sarà mai un paese innovatore da un punto di vista musicale non creerà mai un trend che gli altri riprenderanno ma cazzo almeno stare copiare ma copiare live cioè mentre succede entrare in una scena mentre succede noi abbiamo portato il grunge cazzo i Ritfib hanno preso il fonico dei Metallica del Black Album per fare batteria hanno preso quattro anni dopo quattro anni dopo il Black Album hanno preso Rick Parashar che era il produttore del primo disco di Hyper Jam l'hanno preso cinque anni dopo quattro anni dopo non mi puoi fare i Sonic Cute dopo dopo il 1990 capisci fammeli nel 90 fammeli nell'88 fammeli nell'89 questo è il problema quindi è una cosa che c'è sempre stata secondo te cioè non è una questione di oggi ma no per i Subsonica che cosa facevano facevano una sorta di Depeche del aggiornati ma cazzo Depeche fammeli nel 1990 ok nel 91 92 cioè fammeli nel momento in cui i tempi si sono soffetti in Devotion e mi ci metti anche la batteria vera cioè fai una roba un po' diversa non ha senso oggi che senso c'avevano i Blue Vertigo e mi rifacevano i Duran Duran ma duemila anni dopo va bene la citazione però a un certo punto proponi tu lo vedi Morgan è uno che ha un disco all'attivo cioè tu dai del genio a uno che ha fatto un disco due canzoni da appartamento ah no scusa Morgan pensavo come Blue Vertigo facciamo la Morgan fammi la conta degli album di Morgan per dire eppure siamo qui a incensare il genio no vabbè secondo te come può visto che insomma differenza stai dicendo sono pigro non ascolto molta musica anche perché tu sei normale nel senso che ho un po' perso le speranze siamo tutti pigri guarda che eravamo pigri anche quando scoprivamo musica certo però avevi contatti cioè di riff o di raffa ti arrivava l'influenza di qualcuno ti diceva cosa ascoltare esattamente vabbè oggi qualcuno di cui ti fidavi che ha sostituito il negoziante ma non lo sostituisci basta che apro Spotify qualcosa non è così questo è il motivo per cui pensi che la musica sia di merda no io non penso che sia di merda ma perché è fredda penso proprio no ma certo quello che ti chiedevo no tu quello che ti volevo chiedere secondo te si può uscire si può avvenire il mondo o l'Italia insomma può avvenire fuori si può avvenire fuori da questa situazione allora secondo me è una situazione irreversibile forse sono però so che tu hai fiducia no no nel senso io so benissimo che il potenziale no io credo allora io non sono un artista io sono uno che usa l'arte di rimando ok io sono un veicolatore dell'arte degli altri chiaramente parziale perché ti passo delle cose che io giudico degne di essere passate quindi chiaramente c'è una mediazione il problema è che in questo campo oggi ci sto solo io e io infatti dico cazzo fatemi concorrenza create altre voci perché lì dove non arrivo io ci arriva un altro anche perché poi per scegliere diciamo ognuno la propria musica da ascoltare è meglio che uno ne sente dieci di divulgatori se no diventa un tuo come dicevi prima ma certo ma anche perché hai la possibilità di specializzarti in qualcosa tu magari prendi e dici guarda c'è quello che fa il rap perfettamente non c'è bisogno che lo faccia io quell'altro fa la musica elettronica meglio di me oppure scopro io di fare meglio di tutti non so un certo tipo di musica e ognuno si prende la sua nicchia eccetera e se la costruisce non stai in rivalità stai facendo un bene stai rendendo fertile un mondo che è quello in cui tu lavori per quello io non capisco quelli che sterosicano addosso non capisco quelli che vivono la competizione il pericolo di un altro che faccia quella roba lì non è un pericolo è un bene io voglio che ci siano persone io pretendo che ci siano persone che ci provino poi perché tra cento che ci provano magari i due diventano bravi il punto è che oggi non hai forse ce ne sono due che ci provano questo è il problema però serve gente che abbia la vocazione che abbia la voglia che abbia voglia di sentirsi e scremarsi le canzoni e che lo faccia eticamente nella maniera giusta cioè questo è un lavoro i lavori si fanno in una certa maniera il muratore si fa in un modo ci stanno nel tuo campo i fuffaroli diciamo esistono onestamente nel mio campo non c'è nessuno c'è proprio nessuno c'è a livello i fuffaroli a livello internazionale sì ma a livello nazionale non c'è nessuno che faccia su twitch tu accendi su twitch metti la categoria musica c'hai me che faccio divulgazione e poi c'hai uno che sta a mettere i dischi un altro che sta a fa che pezzo vi suono adesso questo la musica è questo la musica come è vissuta su twitch e nel nostro paese è questo le richieste te suono il pezzo e karaoke oppure faccio il mio dj set bello ma poi a un certo punto si cazzi che mi frega che quale contributo mi stai dando nessuno zero divulgazione non la fa nessuno perché per fare divulgazione sai che cosa serve lavoro serve quella cosa che hai descritto prima farsi il culo come un secchio rompersi i coglioni ad ascoltare 250 canzoni e in una settimana probabilmente 4-500 serve tempo serve sacrificio lo devi fare quando non guadagni un euro lo devi fare crescendo nello stesso tempo un pubblico e io ho capito perché quelli a cui ho chiesto Red Ronny vieni a fare questo lavoro anche tu ma io lo faccio poi vai a sentire e ti passa 4 artisti italiani che ti fanno la Gabriella Ferri del 2023 e tu dici no Red non abbiamo bisogno della nuova Gabriella Ferri abbiamo bisogno di altro però non lo capisce e lui pensa che sta facendo Mastarini viene a fare un canale Twitch ma non lo so vediamo tutti gli altri che potrebbero divulgare potrebbero e lo sai perché? perché non sanno manco che gira oggi non sanno cosa ci sia non sanno niente non fanno ricerca non fanno è tutta gente ho capito purtroppo ieri sera penso che non sia neanche proprio facile anche emotivamente fare quello che fai tu ma non è quello è lavoro quello è un lavoro ti ripeto come si fa il muratore? il muratore si fa in una maniera non è che ci sono dieci modi come si fa il dentista? in un modo il mio mestiere si fa in una maniera sola basta le eccezioni non esistono ascolti roba e la catalogo che cerchi di capire dove si impone quale è importante quale non lo è quale è buona per una settimana quale è buona per tutto l'anno questo è quello che cerchi di fare e cerchi di renderla seducente agli altri perché se io e questo è stato il problema della divulgazione musicale per tanti anni nel nostro paese noi abbiamo due divulgatori musicali che ti sbattevano in faccia alla musica facendovi sentire inferiore possibilmente con voce nasale possibilmente questo prossimo pezzo capito? cioè che cazzo di contatto vuoi creare se parli così? dov'è l'empatia? cioè tu mi stai spiegando che tu sei un genio inarrivabile e io sono un povero coglione perché non so mai non so ascoltare nulla questi sono dei problemi giganteschi se noi abbiamo distrutto la comunicazione musicale in questo paese vi devi ripartire dal fatto che il miglior consiglio di sempre non è una recensione il miglior consiglio di sempre non è la voce nasale il miglior consiglio di sempre è sentite sta roba e dà paura quello è farti venire la voglia e te la deve far venire uno di cui ti fidi tutto questo per dire di iscriversi al canale no vabbè questo è un altro discorso nel senso che torniamo all'inizio queste sono le chiavi secondo me che mancano da noi sì no dicevo secondo me non è facile né avere la forza che hai tu di ascoltare 500 canzoni a settimana e poi anche di essere bravo a comunicare però se lavori se noi abbiamo se noi abbiamo due radio musicali che fanno musica 24 ore su 24 indirizzata a rock per dirti e sprechiamo il tempo a raccontare per la centesima volta la storia del disco dei doors noi stiamo sbagliando lì perché in quel momento davanti a quella radio tu non hai un pubblico di 15 anni che stanno creando i loro imprinting c'è un pubblico di 40 anni che quella roba la sanno e se la vogliono risentire dire per la centesima volta utilizza il tuo tempo non per raccontare quello che tutti sanno ma per stimolare le persone lo sconosciuto quello che tu non conosci è più difficile crea fatica mentale crea fatica mentale ti ascolti dieci pezzi sconosciuti uno dopo l'altro tu non hai appigli non hai riferimenti tant'è che la tua mente inizia a dire mi ricorda questo mi ricorda quest'altro e perdi il tuo tempo mentre tu dovresti concentrarti sull'ascolto di quella roba probabilmente a pensare che cazzo ti ricorda quel pezzo hai sprecato mezz'ora cioè mezzo ascolto di quella roba per cercare di capire se ti ricorda di più flash mode o se ti ricorda di più subsonica non ha senso non ha senso la musica ha bisogno di concentrazione noi l'ascoltiamo come sottofondo c'è bisogno di catarsi tu noi tu un disco tu mettevi la puntina e l'ascoltavi così oggi non lo puoi più pretendere oggi non bravo quindi devi riuscire a trovare la concentrazione anche facendo altro che è più difficile è tutto più difficile però devi devi volerlo fare li devi dedicare è arte è qualcuno che in quel disco ci ha messo se stesso gli devi dare dignità tu per primo devi vedere come si chiama quella canzone vai a vedere il titolo guarda come si chiama quest'artista scopri quella cosa che ti piace approfondisci oggi devi farlo tu non ti salvi lo devi fare tu perché non c'hai un altro che te lo dice a tormentone quando senti la musica delle pubblicità anche se tu non sai di che cosa è quel prodotto tu solo perché la senti cento volte al giorno quella roba tu c'hai quella melodia in testa e tu dici mi sa che è una pubblicità capito? tipo della serie A team noi vivevamo la musica in questa maniera quello è un modo fantastico per acquisire la musica anche il modo di acquisire passivo è fantastico ma servono i divulgatori serve qualcuno che faccia play e te lo faccia sentire che ci sia un ci siano delle casse che diffondano qualcosa se quelle casse diffondano sempre la stessa roba tu ascolterai sempre per tutta la vita la stessa roba è quanto di meno sviluppante per il cervello che esista stiamo fermi alle nostre certezze per quello dico che è difficile vabbè dai avete domande ragazzi? ma perché? eh vai sempre lei la prima domanda è quanto dura? quanto manca? manca me ma Enrico allora ascolti io ti volevo fare una domanda molto semplice allora hai parlato adesso della pubblicità che comunque dava un input alle persone che fa conoscere una canzone allo stesso tempo però hai diciamo messo in cattiva luce il fatto di tiktok che comunque fa conoscere per quei brevi secondi una canzone faccio un esempio non so se lo dico bene è Timolcita Dama Doma quel gruppo bielorusso che ha fatto conoscere tramite tiktok la mercoledì che balla non so se hai mai sentito non frequetto tiktok quindi mi stai parlando di una cosa che scopri questo ho presente ma non sapevo che fosse questo ok e praticamente io ho conosciuto questo gruppo bielorusso che fa un post panca diciamo pure i bielorussi fanno il post panca solo noi siamo rimasti io sono una fiotta e ho scoperto questo gruppo che va a farla maggiore tra i ragazzini mia figlia che ha 19 anni e ha detto ma come mamma non li conosci li conosco io ho fatto un po' l'indagine e ho scoperto che comunque un gran gruppo che si rifà dunque c'è questa modalità di tiktok che viene un po' da noi boomer diciamo un po' sottovalutata e anche un po' messa da una parte ma non è un po' la stessa cosa che succederà in i nostri tempi con la pubblicità allora mi hai dato intanto lo stimolo perché voglio fare a questo punto una puntata comparativa tra la musica presente nelle pubblicità di oggi qual è rispetto alla musica presente nelle pubblicità per esempio degli anni 80 o degli anni 90 per capire quanta musica attuale sia presente nelle pubblicità di oggi e quanta musica attuale fosse indubbiamente presente nelle pubblicità di allora perché potremmo scoprire che oggi usiamo soltanto pezzi di repertorio che potrebbe essere un'indicazione il punto di tiktok non ho nulla contro tiktok o la discografia che investe su tiktok se non si dimentica anche di investire negli altri modi è un po' il discorso dei talent noi tendiamo a demonizzare il fenomeno dei talent show io non li demonizzo io demonizzo il fatto che siano gli unici veicoli di proposta musicale in paesi sani i talent sono semplicemente una delle varie modalità per uscire fuori anzi normalmente resta una sorta di lettera scarlata addosso agli artisti perché però sono usciti dai talent da noi no da noi talent sono diventati praticamente il maggior volano per Sanremo Sanremo era caduto nell'oblio non lo cagava più nessuno in termini di numeri sì ma in termini commerciali di vendita non lo filava più nessuno Sanremo adesso è tornato più centrale che mai nel senso che ormai devi passare per Sanremo quindi la sgomitano per andare a Sanremo una volta c'è una fiordaliso cioè scongelavano una mummia da un sarcofago la prendevano chi è questa? ah è fiordaliso c'era la targhetta c'era un mesetto per riportarla in vita poi la mettevano sul palco però anche adesso in piccola parte però un paio all'anno li scongelavano sì certo però comunque il resto invece è tutta chiaramente una ricerca diversa adesso ora fiordaliso però TikTok è un è un veicolo è giustissimo che la musica sia veicolata attraverso le pubblicità è giustissimo che sia veicolata attraverso il mordi e fuggi di TikTok non è giusto che sia veicolata solo attraverso TikTok così come non è giusto non era giusto se fosse stata veicolata solo attraverso le pubblicità se no tu avresti avresti avuto l'impressione non so che un disco non so di chi fosse un profumo o una macchina e spesso noi associamo ancora delle canzoni delle canzoni a dei prodotti no? il punto è io ripeto io sono per un mondo di diversità non puoi spegnere roba e non possiamo più permetterci di continuare a spegnere roba dobbiamo provare faticosamente a riaccendere roba e oggi per riaccendere siccome non puoi riaccendere MTV siccome non puoi riaccendere quello che vuoi insomma oggi puoi però riaccendere una diversità nei canali dove devi stare investire sulla televisione tradizionale oggi è stupido a me spesso mi dicono ma se domani ti offrissero un programma in radio no perché non è la radio dove devi andare a farlo non è questo tipo di radio dove devi andare a farlo quindi direi di no se domani ti offrissero un programma in televisione dove fai musica no io ho già dove fare quella cosa lì nella massima libertà quindi per me è un posto che non posso tradire mi sono fatto un culo così per portare un pubblico capito in quattro anni per poi voltargli le spalle e andare a fare una roba in televisione non esiste ormai il mio posto è quello servono però più persone che investano in questo anche perché in televisione purtroppo non riesce a fare queste cose qui il radio non riesce a fare queste cose qui perché abbiamo una classe dirigente che è una fetecchia non ha lungimiranza non ha consapevolezza di tutto questo e tirò di più abbiamo una classe di artisti e musicisti che io chiamo adattivi più ti tolgono e più tu dovresti protestare perché ti stanno togliendo l'artista italiano medio sopravvive anche nelle peggiori condizioni è adattivo riesce a sopravvivere anche se gli tolgono tutto perché ha il suo orticello perché gli basta non ha consapevolezza di un qualcosa che ha un movimento e quindi non gliene frega niente di dire non mi va bene e noi siamo arrivati a questo livello perché tante fin troppe persone si sono fatte andare bene tutto perché alla fine tanto c'è campo va bene mi va bene e quindi tu hai persone che non hanno nessun tipo se hai un pubblico che non è da un lato stimolato a pretendere cioè tu dovresti andare in piazza a dire maledetti come aveva fatto la buona signora addi e maledetti perché mi avete tolto un pluralismo di informazione mi avete tolto la possibilità di non sentire sempre la stessa cosa o di non farmi sentire sempre la stessa maledetta roba di 200 anni fa io il pubblico potrebbe andare sotto le radio e dire io voglio il presente perché il passato l'ho già vissuto voglio oggi voglio capire dove va il mondo voglio capire dove è il domani voglio sentirmi parte del mondo noi non abbiamo neanche consapevolezza di stare su una zattera che veramente ormai la deriva e quindi siamo contenti perché poi i maneskin ce l'hanno fatta capito perché per noi diventa sport a quel punto cioè sono quelli che sono riusciti a farsi la tratta e sono sbarcati a Lampedusa questo né più né meno scusate il triste esempio però fondamentalmente è questo sono quelli che ce l'hanno fatta indipendentemente da non importa chi non importa come e quindi diventano esempi tra l'altro non ripetibili perché dovuti al caso non portano gente in sala prove non hanno creato emuli rock non ne vedo se no ci sarebbero già stati però secondo me un pochino un pochino no io lo vedo tra un'idea mia io insegno ah ok infatti è vero stavo dicendo forse Gucci ha fatto i soldi con i maneskin forse Gucci sì pazzesco forse Gucci sì nel senso che poi alla fine quando stringi è quello che ti resta è quello è quella puffa lì cioè è il vestito perché poi non c'è non c'è contenuto quindi boh cioè io sarei molto più felice di esultare per il successo di una band italiana che fa un qualcosa di totalmente innovativo ah vabbè e su questo chiudo perché spesso mi dicono devi dire che i maneskin sono figli perché sono italiani vabbè ma io sono siciliano non è che dico che è totorina è figo cioè per me è uguale cioè nel senso dipende ma non è cioè è una tua opinione a me tutto il concetto delle quote tricolore applicate alla musica mi fa molto lì esatto far ridere sia il discorso dei quote tricolori come il discorso dello sport applicato alla musica la musica non è mai stato gara tant'è che i seguaci appunto i fan dei maneskin normalmente quando argomentano hanno vinto questo hanno vinto quest'altro ma tutto questo è il prodotto di una cultura degenerativa lì talent come unica voce ti ripeto i talent stanno benissimo dove stanno ma non devono essere l'unica voce se tu gli permetti di essere l'unica voce la musica verrà percepita come una gara non è strano che dopo quanti anni è che c'è X Factor 12? 15 tu lo vedi il prodotto dopo 15 anni di musica di X Factor e dopo X anni che hai spento la divulgazione musicale anche blanda anche mainstream e quindi le radio passano 30 pezzi per il popolo per tutti fatevi andare bene lo abbiamo a cambio radio stessi 30 pezzi tu stessi 30 perfetto grazie e nel momento in cui la musica viene dai talent la scoperta degli artisti viene dai talent questo è quello che succede dopo stranamente dopo 15 anni tu pensi che la musica sia una gara è come la goccia in testa no? pim 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 la musica è una gara sì ma tu lo capisci anche dell'importanza che dai al tipo di eventi quando tu non hai più niente Sanremo diventa un grande evento lo Eurovision santo Dio lo Eurovision l'evento più trash del mondo cioè non manco lo trasmettevamo sai perché non lo trasmettevamo? perché sembrava la versione trash di Sanremo e diciamo no ma c'è già Sanremo cioè inutile fare anche questa vaccata e oggi lo Eurovision è diventato l'Helloween delle festività musicali praticamente noi abbiamo mai cagato Halloween come popolo italiano no c'eravamo il carnevale e adesso adesso c'è abbiamo in giro adesso c'abbiamo Eurovision c'abbiamo queste cose diventa tutto importante perché è l'importanza che dai quando non hai più niente vabbè avete altre domande? io finirei qua perché siamo tipo a due ore poi continuiamo al bancone perché avrei tante cose da dire ma stacchiamo Enrico Silvestrin un applauso ragazzi grazie Enrico grazie a voi ci vediamo tra due settimane dove? qua tu torni ovviamente con Enrico no no con Davide Pezzi ciao buonanotte buonasera grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti